Ciao! Allora, come la volta scorsa, mi faccio perdonare per la mancanza del video di ieri su risparmio semplice quotidiano, perché così ve ne metto due oggi, due in uno, o anche tre in uno, ecco, può essere valutata in vari modi. Allora, si parla oggi di, in questa rubrica, di decluttering. Cosa vuol dire decluttering? Vuol dire dare via, o comunque buttare via, tutto quello di cui non abbiamo bisogno. Scusate la luce, ma qui c'è un tempo pessimo stamattina. E quindi ne ho approfittato del fatto che in questi giorni sto facendo molte pulizie qui in casa, perché mi voglio alleggerire di cose, materiali, per sentirmi più leggera io. E allora ne ho approfittato, come vedete, ho preparato delle borse, con dentro delle cosine, che adesso vi spiegherò cosa, come fare, per fare queste, preparare queste borse. E anche un pacchettino. Quindi, allora, io cosa faccio? Faccio pulizia, tolgo quello che non ho bisogno, che non uso più, quindi faccio decluttering, e poi divido. Nelle cose da buttare, vabbè, che magari sono rotte, sono proprio strappate all'inverosimile, quindi le prendo e le butto via. Oppure, le dono, o le rivendo. Allora, se sono proprio cose di marca e di valore, le rivendo, o su Vinted, o su Wallapop. E per quello che vi dicevo, vi do dei consigli, due o tre consigli in un unico solo. Quindi, questo qui è ricco, già, diciamo che riempie già la giornata di ieri, che ho mancato. E invece, nelle donazioni, io uso un gruppo, specialmente su Facebook, dove c'è appunto, te lo regalo se lo vieni a prendere, l'avevo già detto in uno dei miei video passati. e quindi queste borse che vi ho fatto vedere con dentro dei prodotti, del materiale, delle cose, degli accessori, di qualsiasi tipo, le dono in questo gruppo. Le assegno e poi la gente se lo viene a prendere qui a casa mia. Quindi io non devo neanche sbattermi, andare a sprecare della benzina in giro, a destra e a sinistra, per consegnare, perché lo vengono appunto a prendere sotto casa vostra. Quindi, il risparmio di oggi, i consigli di oggi sono liberatevi delle cose che vi sentirete più leggeri e meglio anche in salute, se vogliamo emotivamente, comunque in salute, perché quando la mente sta bene, sta bene tutto il corpo. Questo è il primo consiglio in assoluto. Il secondo, sfruttate i gruppi di donazioni della vostra città, della vostra zona e anche per prendere delle cose, perché non è che dovete solo dare, ma il risparmio è anche lì, che magari vi piace o vi interessa qualche cosa e lì è gratuito in questi gruppi. Oppure, risparmio più guadagno, vendete le cose veramente di marca, ben tenute, di valore, su Wallapopo Vinted. Detto questo, spero che anche questo video finale della settimana vi sia stato di aiuto, anche se nella sua semplicità. Noi ci vediamo per questa rubrica lunedì. Ciao, buon fine settimana! Ciao, buon fine!